La tentazione. Da dove viene? Come agisce dentro di noi? L'Apostolo ci dice che non viene di Dio, ma delle nostre passioni, delle nostre debolezze interiore, delle ferite che ha lasciato in noi il peccato originale. Da lì vengono le tentazioni di queste passioni. Il curioso, la tentazione ha tre caratteristiche. Cresce, contagia e si giustifica. Cresce, incomincia con un'aria tranquilla e cresce. Lo stesso Gesù diceva questo quando ha parlato della parabola del grano e la zizzania. Il grano cresceva, ma anche la zizzania seminata dal demico. E la tentazione cresce, cresce, cresce. E se uno non la ferma, occupa tutto.